Si tratta della storia di una ragazza completamente sola di nome Liz. A casa di Liz, che è completamente sola, arriva una fanciulla sconosciuta. Le due diventano amiche per la pelle e da allora iniziano a vivere insieme, ma... nell'epilogo... Aspetta! Stammi accanto! Sempre! Sempre! Stammi accanto... Beh, ciao! Senpai, hai scarsa affinità con la Senpai Nozomi. No, non è affatto così. Non sta andando bene, commisore. Non è affatto così. Pensavano che sarebbero state sempre, sempre insieme. Tu però hai delle ali. Hai un grande cielo che si estende fino ad ogni luogo. Per i racconti quello che ci vuole è un lieto fine. Liz e l'uccellino azzurro. No, non è affatto così.